Questo passaggio ci riporta Don Marco dritti all'invidia sul luogo di lavoro. Quanto è difficile dire una persona che è brava. Quella gli va bene la vita perché sta in una certa, in una posizione più blindata, chissà come è arrivato a quel punto. Mai una volta, addirittura poi si comincia poi a parlare male di questa persona, cioè non basta invidiarne i successi, ma bisogna mettere in giro quella che mi piace un'espressione di Papa Francesco, la chiacchiera per demolirlo e distruggerlo. Ma perché non riusciamo neanche a fermarci al primo gradino? Perché Satana non si dà per vinto, Satana non ha talento e quindi lui sa che l'unica maniera per illudersi di vincere la battaglia contro la verità è quella di disseminarle a Zizzania. Tu fai la giornalista, lui dice io sono sacerdote e la mia non è un'azienda, è forse la famiglia di Dio, però Papa Francesco tante volte ci richiama su questo che è il grande dramma dell'invidia, dalla quale nasce la gelosia e dalla quale, come accennavi prima, nasce il tema del sospetto. E perché l'invidia è così difficile da scardinare? Perché probabilmente fa parte di quella struttura umana che è stata accordata dal peccato. Teniamo presente che se noi prendiamo i dieci comandamenti, l'invidia dove va ad insinuarsi? Potrebbe benissimo andare negli ultimi due comandamenti. Non desiderare la roba degli altri, non desiderare la donna degli altri. Perché questi due comandamenti sono i più diciamo così, i più a rischio di attacco dall'invidia? Perché l'invidia lavora con uno strumento molto subdolo, che è lo strumento del sospetto. Cioè quello di dire guarda io c'ho il sospetto che tuo marito, che tua moglie, che quel prete, cioè non c'ho la fotografia che ti dico, eccolo qua, decidi cosa fare. Ti butto dentro il tarlo del sospetto. Noi in questi giorni è un fatto di cronaca nazionale a Padova, stiamo vivendo un momento tragico, no? Di questa grande inchiesta che coinvolge una piccola parte della nostra chiesa. Però io sulla mia pelle, noi sacerdoti sulla nostra pelle, stiamo sperimentando quel sospetto, no? Quel tentativo di dire lo stile magari di uno è lo stile di tutta la chiesa. E noi non dobbiamo arrendersi perché questo significa ricevere un applauso dal demonio che dice sono riuscito a buttare dentro questo sospetto, questo tarlo e a distruggere anche quella verità che c'è dentro. Ti ringrazio per averlo fatto, ne abbiamo